Se volete acquistare account moddati per GTA V a basso costo, passate su Moddinglantia, link in descrizione. Oh, ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta quello là! Che sculato! Eh, un cicciobomba che sta là! È piccato! Da 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 da! Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Non ci credo! Quarto posto, da quattordicesimo! Dai! Da quattordicesimo! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video! Siamo in una gara moddata e stiamo volando, giustamente! E siamo con Virgo Deep, il ritorno! Ciao Zuzzi! Ciao Zuzzi! Siamo in acqua? Ma perché? Cosa? Non sto capendo, perché siamo in acqua? Non siamo in acqua, siamo in acqua! E io sono caduto in acqua! No, siamo in acqua! Ah, ora sì! Ragazzi, gara moddata, con le pale eoliche, no, per piacere, Cristo Santo! Oh, cazzo! Eh, ma ha preso adesso la pale eolica a me! Ovviamente, vi dovete iscrivere a Virgo Deep, perché così vi fa le pizze! Così, Ammuzzo! Sì, no, eh... Dillo che non è, Ammuzzo! Dillo, dillo che facevo il pizzaiolo! Dai, dai, diciamo la storia di Virgo Deep in un minuto! Allora, ragazzi, avete capito bene, per chi già mi conosce, per un tot di tempo ho anche fatto il pizzaiolo! Posso dire che nella mia vita un po' le ho fatte! Oh, cazzo! Di nuovo, ragazzi! Eh, porca miseria! Ma ci hanno messo 50.000 pale eoliche, è normale che non riusciamo a... Dai, vabbè! C'è un tornado di pale eoliche lì in fondo, cioè! C'è quello che vola! No, lasciamo stare! Non diciamo i particolari della gara! Oh, ragazzi, ma sta gara è qualcosa di... ecco! Di nervosissimi! Eh, madonna! San Geppetto! Chi è San Geppetto? Non lo so! Non riesco! Dai! San Geppetto! Due! No! Sì, sì, sì! Non ci credo! La provagine! Eh, la provagine! Io sono caduto! No, ma sai, mi hanno colpito, mi hanno fatto andare... Cioè, colpendomi, sono riuscito ad andare sopra! Mi hanno risistemato la mano! Cos'è qui? E lavorare di pazienza! No! Non mi spingere macchina rossa del cazzo! No, no! Aspettate, che cacchio è? Dai! Io e... Ragazzi, mi stanno inculando tutti! No, 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 no! C'è la trivella di s***o rossa? Sì, la trivella rossa! E decidiamo chi passa prima! Vai, vai! Cinque... Perché mi spinge questo con la macchina di Titti, porco cane? Di Titti! Ragazzi, Virgo Dip comunque è tornato! E lasciate... Iscrivetevi al suo canale, lo lascio in descrizione perché ha perso anche, diciamo, visibilità perché comunque è stato in attivo! Ora... Ragazzi, è il mio, penso, terzo ritorno! Il terzo ritorno, chiaramente! Poi farà anche i Titti gameplay! Dicevo, Alex, che ho la vita di YouTube dannata, io! Ecco! Gente che non spawna! Dai! Oh, Alex, ma guarda che questo punto qui è fighissimo! Vedi macchine che saltano! Ecco, adesso si è saltato! Ma guarda che questo punto qui è cancro, è diverso! Cioè, hai capito? Perché la gente si sta annicurando tutta vicenda! Oh, ma la macchina, ormai la mia macchina non esiste più, è come se mi avessi investito un kill! No! Sei passato? No! Gente ferma, è vero! Io vedo gente, io vedo il mio contatore della posizione che fa 0, 2, 3, 1, 3, 0, 1, 2... Ok, ok, raga, prima fatta, prima fatta! Dai, muoviti, muoviti! Muoviti! Cadi! Zampala 88, cadi! Zampala 88? Chi è che ha messo questa nuova? Non mi spingete, cazzo! No, no, madonna! Ah, là c'è la rampa, ti rallenta! Ce l'avevo fatta, però! Minchia, ero secondo... Ah, eri passato? Sì, ero passato, però alla seconda non ci sono riuscito più! Ma misera! Ha schizzo! Ha schizzo! Ah, sì! È la gente che si ferma, madonna! Si capisce niente! Qua c'è un trituratore di antenne dell'aeroporto! Un trituratore! Un trituratore! Piano, piano, piano! E, 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 stiamoci... Madonna! Ragazzi, se ce la faccio a marci indietro, voglio 2000 like, così! Mai, mai... così! Senza, così, a stompo! Sai cos'è il problema, Alex, nel primo passaggio? Che si mettono tutti lì a blocco! Quindi, anche se te... Ecco, e poi quelli di dietro ti spingono! Bravo! È come Final Destination! Eh, ma il secondo... Il secondo coso di là... In pratica, tu passi solamente da destra e c'è la rampa! Quindi ti sbara sempre fuori! Ti rallenta! Ti rallenta, minchia! Eh, sì, vai, vai, vai! La carcassa! La carcassa! Incredibile! Mi hanno scritto i messaggi qua! Alex, è impossibile! Ci credo! Di qua è vinculato a sangue! Dai! Carca misera! Davvero è impossibile! Cioè, io, ragazzi, faccio il primo video con Virgo Deep e già lo faccio sclerare! Proprio l'accoglienza bella questa! Come accogliere uno YouTuber! È la tua firma, Alex! Ecco, tanto andremo a fare un parkour dopo e sarà anche peggio di questo! Hai sempre fatto così! Me l'aspettavo, quindi! Ok, 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 ok! Dai, dai! Ma dai! Oh, ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta quello là! Che sculato! Eh, un cicciobomba che sta là! È piccato! Dai, 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 dai! Sì, sì! Ce l'ho fatta! Non ci credo! Quarto posto, da quattordicesimo! Dai! Da quattordicesimo! Minchia! Oh, ce l'ho fatta! Bisogna andare piano ma veloce! Cioè, capi? Piano ma veloce! Dai! Ah, vabbè, sì, piano ma veloce! La paleolica! Prende il checkpoint! Non è facile capire piano ma veloce! Secondo giro! No, ma il problema è che posso poi dopo c'è una rampettina! No, Virgo, sai qual è il problema? Che sono tre giri! Vabbè, ragazzi, allora io vi saluto da Alex! Vi saluto! Come è stato un piacere girare il video qui con voi, anzi, con Alex e voi tutti insieme, ragazzi! Ma io tre giri di questa pazzia non me li faccio! Ok, devo fare le paleoliche di merda! Ce l'ho fatta tutta! Il primo colpo, incredibile! L'ho doppiato! Ho doppiato tutti questi, incredibile! Che sei, primo? So terzo, però li ho doppiati questi qua! Come cazzo? Come fa uno a passare quei... È una macchina della morte, sta cosa qui! Madonna, se... La marcia indietro... Ma ecco... Dai, raga, sto nel secondo giro e ce la faremo fino a domani mattina! No! Che la gente ti incula a sangue! Ero nella rampettina! Alex, ero nel... Nel cosa? Nel corridoietto e qualcuno mi ha spinto! Ecco, qua si è bloccato! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ah, grande Virgo! Incredibile! The Pro! The Pro! Incredibile, ragazzi! The Pro! Ma qui ora invece... Devo fare tutto il giro fino a ritornare dal punto in cui si partiva! Certo! Devi fare tutta la cosa da capo! È tutto molto bello! Eh, madonna! No, non è molto bello! Non è niente bello! Non è... La vita non è bella! In questo video! No, la vita fa... No, vabbè, ma quella fa schifo a priori! Alex, ti appoggio! Ma ti appoggio proprio, Alex, che ti appoggio! Ecco... Perché c'è gente con la... La coil, come cazzo si chiama? La macchina... Eh, sì, in due non credo che passiamo! Quello si ficca con me, dai! Ecco! C'è uno... Alex, però è brutto da dire! Sì, lo so che è brutto da dire, ma c'è uno che... Non lo so, mi sta... Insomma... Grazie! Mi avete spinto e me l'avete pure fatto... Grazie, grazie mille! Dai! Very, very well! Oh! Sì! Ce l'ho rifatta! Ce l'ho rifatta! Seconda volta! Incredibile! Seconda volta! Cipollini! Dai! Però sai cosa stimo di chi ha fatto questa gara, Alex? Io niente! No, invece io stimo il fatto che nella prima... Nel primo... Nei World Raid abbiamo messo le ringhiere! Eh, ma... Non ti spiego, non è che ha messo lui le ringhiere! Sono dei... Sono delle rampe moddate! Non esistono queste rampe! Oddio! Alex! Di nuovo sono passato! Di nuovo sono passato! Prendi il check... Io ho preso il checkpoint di culo! Di spoiler! Con lo spoiler della macchina! Di spoiler! Ragazzi, andiamo a fare il terzo giro incredibile! Gara sclerotica! Dai! Mamma mia, è molto sclerotica! Che poi non è neanche una... Una gara impossibile! Cioè... È fattibile questa gara! Dai, dai, dai! Sì, sì! È fattibile, è vero! Per farla virgo, effettivamente! La fai tu, sicuramente! Ui, ero al secondo posto per un pochino! Non so se i tuoi nuovi iscritti sanno la fama che ho io delle gare! Sì, la sanno! Le l'ho detto io! Sanno la fama che ho io delle gare! Vai a passare qua! Andavo troppo lento però! Oddio! Oddio, Alex! Che è successo? Sono ripassato! La terza volta! Sì! Grandissimo, ragazzi! Virgo mi ha pure superato! Io invece non riesco a fare le pale qua! Ragazzi, iscrivetevi al mio canale perché sono passato! E così, senza motivo... Guarda che... Mike Filippo ha concluso! Oddio! Non ci credo! Oddio! Madonna! Un applauso per Virgo! L'euforia dopo... Io sto ancora bloccato qua! E si passa? Sì, ce l'ho fatto! Ecco, ora sto alle trivelle rosse! Le trivelle di Salvini! Incredibile! Ce l'abbiamo fatta al primo colpo qui! Ora ce l'abbiamo rifare al primo colpo! Sì! Al primo colpo! Dai! Cioè, ho fatto... Prima ci ho messo un uramo al primo colpo! Le cose rosse! Incredibile! La pro... Gini si sita! La pro... 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 No! Guarda! In pieno! In pieno! In pieno! Porca miseria! Dai, però! Madonna! Questa garellezza, come dice Zeb! Uh! Ecco! Ma sempre a me! Uh! Ma mi capita la pala in culo! Dai! No, no! Invece no! Ti do il fluido benefico! Concludiamo! In quarta posizione! Hai visto? Te l'ho detto che ti dava il fluido benefico! Il fluido benefico del potenziale! Virgo ha fatto secondo posto, ragazzi! Incredibile! Incredibile! Quindi! Non ci credo nemmeno io, ragazzi! Per questo video è tutto! Scrivetemi nei commenti se volete altre gare moddate! Sono bellissime! Poi sono tutte così! Cioè, sono particolari, raga! È vero! Con le astronavi, eccetera, eccetera! Iscrivetevi al canale di Virgo! È obbligatorio! Cioè, è un obbligo! Fatelo, sozzi! Perché se no mi incazzolo, dico anche nei miei video! Si incazza! Poi vi schiatta, quindi! Lasciate like! Superiamo i 140 like a questo video! Iscrivetevi al mio canale! Condividete questo video su tutti i social network possibili! Ma anche MSN! Quello del 2008! Cioè, capito? Sì, installatelo! E se non lo trovate... E dovete condividere i miei video su MSN! Quindi! Esatto! Virgo saluta! Ciao, sozzi! Ci becchiamo al prossimo video! Bella raga!